Petchannel.eu, il canale social foto video degli animali domestici presenta, il gatto soriano o meticcio. Il gatto soriano, prende nome dalla Soria, Siria, regione dove tale gatto era diffuso allo stato selvatico. È la razza impura del comune gatto di casa, detto anche gatto meticcio. Un altro nome, con cui il gatto soriano viene definito, è quello di Tabby, da Attabia, un'altra regione asiatica, dove veniva prodotta una seta striata, i cui motivi ricordavano il pelo di questi gatti. Se ti è piaciuto, metti un mi piace a Petchannel e condividi il post. Grazie.